Adesso per Nicolossi ascolteremo la bravissima Roberta che ci farà ascoltare un successo di Mina del 1960. Roberta ci canta una zembra a puà. Applausi a Mocallucco! Una canzone commovente devi pensare a chi ti fa vibrare il cuore ed ho scritto davvero sorprendente pur non essendo una canzone di amore. Una zembra a puà. Applausi a Mocallucco! 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 A puà, a puà, a puà. Una zembra a Mocallucco! Una zembra a Mocallucco! Una zembra a puà. Applausi a Mocallucco! Ancani Colossi! Votate, votate, votate! Al numero 8, 9, 4, 4, 3, 3. Seguite le indicazioni della voce guida ed editate il numero 2. Non tenetemi forte a casa perché stanno per entrare i nostri cantanti su questo applauso e scopriremo insieme a voi chi si è giudicata la prova artistica, la prova di canto. Tra poco li vedrete inquadrati in primissimo piano, partirà la grafica e lo scopriremo insieme a voi. Attenzione, vince la prova di canto Nicolosi! Nicolosi! 72,38! La percentuale! Bravo anche te Simone!